Adriano Gagliani e Paolo Berlusconi ci saranno di sicuro domenica sugli spalti dello stadio comunale di Arezzo per la partita di cartello contro il Monza. Silvio invece, da quanto trapela, deciderà solo all'ultimo momento. L'ex premier e presidente del club fino a questo momento ha saltato solamente una partita, la trasferta di lunedì scorso ad Alessandria contro la Juventus, under 23 battuta con un netto 4-1. Nelle altre trasferte è vero che è stato sempre presente, ma erano tutte piuttosto vicine a Milano e dunque sono precedenti che non possono fare molto testo. Dunque solo all'ultimo l'ex premier deciderà se esserci ad Arezzo oppure no, in base anche ai suoi impegni politici che potrebbero portarlo anche nella vicina Umbria per sostenere la candidata alla presidenza, Tesei. Sicuramente una sua presenza allo stadio creerebbe ancora più attesa per una partita già carica di significati, anche considerando le quasi nulle comparsate di Berlusconi ad Arezzo sia in veste di presidente del Consiglio che di leader del centro-destra. Parlando invece della squadra di Di Donato, in un'intervista al Corriere dello Sport, Gabriele Gori, dopo la doppietta alla Propatria, rilancia Voglio portare l'Arezzo in B a suon di gol.